Ciao, bentrovato e bentornato nel nostro canale Metodo MCA, mente, cuore, anima, oppure mindset, modo di pensare, consapevolezza e abbondanza. Oggi parliamo di come percepire i soldi, di come percepire il denaro e cambiando e comprendendo solo questa piccola cosa vedrai che i soldi cominciano ad arrivare nella tua vita in abbondanza. Ma prima di cominciare vi vorrei ringraziare per tanti commenti, per tante testimonianze, per tante testimonianze concrete, che tutti i giorni mi arrivano i vostri messaggi con la gratitudine e con i risultati concreti. Chi mi scrive che ha trovato il lavoro dei suoi sogni, chi ha ricevuto grandi somme di denaro, per chi comincia a smuoversi qualcosa, alcune di queste testimonianze vi pubblico nelle mie storie di Facebook, così possono essere di ispirazione a tutti gli altri. Vi ricordo che ancora vi potete iscrivere alla sfida dei 90 giorni che vi insegna, che riprogramma il vostro subconscio a percepire diversamente l'abbondanza, a percepire diversamente la ricchezza e far fluire l'abbondanza, far fluire il denaro nelle vostre vite. Tra le varie testimonianze mi sono arrivate alcune che già solamente nei primi 20 giorni qualcuno ha raggiunto il suo obiettivo economico, qualcuno l'ha superato, qualcuno ha ricevuto dei regali inaspettati, i soldi inaspettati, e parliamo di migliaia di euro, perché è così, quando tu entri nella frequenza dell'abbondanza, quando tu vibri l'abbondanza, i soldi devono fare parte della tua vita, non c'è altra opzione, perché noi siamo un grande campo elettromagnetico, noi attraiamo ciò che siamo, ciò che vibriamo. Se noi siamo abbondanza, abbondanza arriva nella nostra vita. Se ancora non l'hai fatto, ti invito di iscriverti alla sfida dei 90 giorni, il link troverai qua nella descrizione di questo video. La sfida è strutturata in un modo che ti iscrivi e cominci dal giorno numero uno. Non è una sfida con gli altri, è una sfida con te stesso, è una sfida con la tua mente, perché quando hai riprogrammato i tuoi pensieri, hai riprogrammato la tua mente, hai cambiato le tue emozioni, e dalla scarsità, sei passato all'abbondanza, l'abbondanza avrà parte della tua vita, non c'è un'altra opzione. E oggi parliamo di un altro concetto, di un'altra percezione che spesso c'è nella mente delle persone, la percezione che ci ancora nella povertà, che ci ancora nella scarsità, la percezione che blocca il flusso dell'abbondanza delle nostre vite, perché l'abbondanza c'è, l'abbondanza è ovunque, l'abbondanza è come aria con la quale respiriamo. E se non fa parte della nostra vita, non è la colpa del mondo, non è la colpa del sistema, non è la colpa di qualcuno al di fuori di noi. La responsabilità del fatto che l'abbondanza non fluisce nelle nostre vite è solo ed esclusivamente nostra, è solo esclusivamente della nostra mente, la mente che non è stata programmata per l'abbondanza. La mente egoica, la mente subconscia non giudica, la mente subconscia esegue. E se tu riprogrammi la tua mente, se cambi le tue convinzioni, se cambi la tua percezione che riguarda l'abbondanza, i soldi, la ricchezza, smetti di bloccare l'abbondanza. E se smetti di bloccare l'abbondanza, che è uno stato naturale dell'universo, allora la tua vita sarà piena del flusso di abbondanza. I soldi sono fondamentali nella vita di oggi. Da tantissimo tempo non esiste più il baratto. Quindi l'unico modo con il quale possiamo scambiare i nostri beni, possiamo avere ciò che ci serve ed essere ricompensati per quello che facciamo, quello che produciamo, quello che facciamo come lavoro, l'unica forma sono i soldi. Soldi è una forma di energia, è un modo di scambio dell'energia. Quindi quando noi vediamo soldi come forma di energia, quindi stiamo guardando da un altro livello di consapevolezza, possiamo vedere altri meccanismi. Guardando le situazioni dal punto di vista di energia, di frequenza e vibrazione, abbiamo la visione molto molto più allargata della realtà. Se incontri le persone che dicono che i soldi non servono, significa che fanno parte di una delle due categorie. O magari sei tu stesso che in qualche modo, con qualche credenza della mente, appartieni a una delle due categorie. La prima categoria sono le persone che sono senza soldi e si vergognano così tanto davanti a se stessi di ammettere che non sono riusciti ad avere più denaro, che creano la maschera, non ho bisogno di soldi. I soldi non sono importanti, ci sono altri valori, altre cose più importanti. Sono tutte le scuse che la mente crea per non stare male, per non ammettere che non siamo stati capaci ad accedere all'abbondanza, che non siamo stati capaci a creare l'abbondanza. Perché il momento in cui io dico che i soldi sono importanti e non ho i soldi, mi dovrei sentire in colpa, mi dovrei vergognare e questo mi farebbe stare male. Quindi pur di non stare male, io mento me stessa. Mento me stessa dicendo che i soldi non sono importanti. La seconda categoria delle persone che dicono che i soldi non sono importanti sono le persone che non comprendono che i soldi sono una forma di energia, una forma di energia creativa. E il flusso dell'abbondanza della nostra vita dipende dal livello della nostra consapevolezza, dipende da quanto sono alte le nostre frequenze, dipende da quanto siamo connessi con la nostra forza creativa, con il nostro sé superiore. Noi possiamo essere connessi o con i nostri programmi di sopravvivenza del subconscio, e sono tutti questi programmi limitanti che vanno contro la vita, e quando siamo in balia di questi programmi, di questi istinti della nostra mente subconscia, noi abbiamo bisogno di prendere energia dagli altri. E là è molto difficile generare l'abbondanza. A livello del coraggio, e nella descrizione di questo video ti metto il link per i livelli di consapevolezza di Hawkins, A livello di coraggio, noi generiamo la stessa quantità di energia quanta ne riceviamo. Quindi a livello del coraggio usciamo definitivamente dai programmi di sopravvivenza, e questo significa che non abbiamo problemi economici, che siamo nel flusso, che mi arrivano, arriva tutto ciò di cui ho bisogno. Il livello di coraggio è un alto livello, ma noi possiamo evolvere ancora, possiamo generare ancora più energia, perché appena superiamo il livello di coraggio, noi generiamo più energia di quanta ne abbiamo bisogno. Quindi là siamo nel pieno potere creativo, e più alziamo le nostre frequenze, più siamo nel processo di creazione, e questa energia è così tanta che la dobbiamo condividere con il mondo intero. E più riesco a condividere, più riesco a generare energia per gli altri, più mi torna indietro in forma del denaro. Anche perché il denaro è una forma di energia, quindi più produco energia, più dono agli altri, più mi ritorna. Come posso produrre l'energia per gli altri? Scopri il tuo talento e mettilo al servizio degli altri. E qua parliamo del lavoro, qua parliamo di quello per cui siamo nati, scoprire ciò che ci appassiona e donarlo agli altri. E quando tu crei tanta energia, ti arrivano le intuizioni geniali. Conosci molto bene, tu conosci molto bene quello che ti fa cantare l'anima, conosci molto bene i tuoi talenti, perché sei andato oltre i programmi di sopravvivenza, non stai più nel bisogno, nella paura, nella necessità e neanche nell'orgoglio. Quindi cominci ad essere connesso con il sé superiore, cominci ad essere connesso con l'anima cuore e ti arrivano le idee geniali. Non puoi contenere tutta questa energia per te. Ti senti nel dovere, senti necessità di condividere con gli altri. Più sei connesso, più sei creativo, più hai idee, più puoi donare, puoi aiutare al numero di persone sempre più grandi e ovviamente ti ritorna tutto in forma di energia, in forma di denaro. Il denaro è una forma di energia. Quindi se vuoi comprendere i meccanismi dell'universo, non guardare tutto come materia, guardalo come energia, agisci in modo quantico. E se vuoi velocizzare il processo della tua crescita personale, della tua crescita spirituale, vuoi velocizzare il processo di passare dalla mente alla consapevolezza di non identificarti più con i programmi di sopravvivenza, iscriviti al corso, il comando MCA e anche per questo corso ti lascio il link nella descrizione. Invece se vuoi sapere come far diventare quest'anno un anno di successi, guarda il video successivo. Grazie per la tua attenzione, metti mi piace, attiva la campanella così saprai quando arrivano i nuovi video e ci vediamo la prossima volta.